mamma mia ragazzi Inter che strapazza la Lazio 3 a 0 manco il tiro in porta manco mezzo di non porta mamma mia che roba l'hanno letteralmente tramortiti mamma mia 3 a 0 e tutti a casa direi i tiri in porta 7 a 0 mamma mia che roba 23 tiri a 5 7 calce d'angoli e avuto over 9 e mezzo invece la Lazio non ha fatto manco mezzo la Lazio ne ha proprio giocato sta partita la Gittatoria fa solo viaggio inutile mamma mia che roba e quindi davvero malissimo direi gol di Toramma Ciaranoglu su rigore e Frattesi direi che non c'è stata proprio partita in questa partita questo match e quindi davvero male l'Inter è top direi top sta partita top davvero con tutto ha altrimenti tritato l'avversario quindi mi piace mi è un po' guardi questa partita sinceramente la Lazio non è mai scesa in campo fa fatica a trovare migliore in campo ma ho visto immobile quando ho visto immobile ho detto la Lazio insegniamo manco se gli danno rigore infatti e quindi niente l'Inter va in finale per me l'Inter la vince contro il Napoli anche e quindi tra l'altro ieri il Napoli 3 a 0 direi finalmente il Napoli convincente anche se la Fiorentina ha fatto proprio ride ha sbagliato anche il rigore e la base del 3 al rigore almeno di tirarlo un po' a roppo i rigori si possono anche sbagliare a tirare un rigore in quel modo davvero da da scarzoni proprio e quindi niente l'Inter che vince migliore in campo Turam Cialanoglu e Frattesi ci mette anche Mkhitaryan ha fatto un'altra partita Di Marco da Lazio fa fatica tremendamente a trovare un migliore in campo secondo me nessuno e quindi niente l'Inter avanza in finale Lazio eliminata da fare il viaggetto Turin-Arabia e quindi niente poi secondo me questa supercoppa adorrebbero fan Italia come faceva una volta prima del campionato secondo me ma tanto dunque il calcio è diventato tutta questione dei soldi tutta questione di merchandising eccetera e quindi niente tutto sto sto pienone basta vedere una foto dall'alto di ieri del Napoli mamma mia ragazzi c'è più gente a Barbetti di Gubbio secondo me mamma mia che roba e quindi niente appuntamento alla prossima appuntamento alla prossima di Gubbio di Gubbio di Gubbio di Gubbio